Devis Mangia sceglie Stefano Sabelli per l'Under 21, mentre Gigi Di Biagio sceglie Francesco Fedato per l'Under 20. Il primo, è vero, non ha trovato spazio da titolare nell'amichevole di Andrea contro la Germania, ma è chiaro che ormai è entrato di diritto nel Giro degli Azzurrini in vista degli europei in Israele. Il secondo, Fedato, ha giocato dal primo minuto a Barletta nel torneo 4 nazioni ed è stato indicato tra i migliori. Bene, entrambi giocano nelle fide del Bari. Entrambi, ormai da settimane, si accomodano però in panchina. Ci chiediamo come mai tutto ciò? Come mai Vincenzo Torrente preferisce dare più spazio ad uno come tallo, di proprietà della Roma, e che dunque a maggio tornerà diritto dritto verso la capitale, piuttosto che ad un giovane promettente del calibro di Fedato, che tra l'altro è di proprietà del club bianco-rosso, quantomeno di metà cartellino e rappresenta un tesoretto per la società di Via Torrebella? Misteri di casa Bari, e usiamo il plurale perché anche Sabelli non riesce a trovare spazio in difesa. Ci fosse al suo posto uno come Abate, omaggio, ci metteremmo l'anima in pace, ma non è così. È vero, a Terni la squadra bianco-rossa non ha subito reti, ma è anche vero che c'è stato un super la manna, che ha salvato il risultato quando ormai la difesa era abbattuta. Due sono le cose, o Sabelli e Fedato sono due blef, oppure Mangia e Di Biagio non capiscono nulla di calcio. Un'eventuale terza spiegazione però dovrebbe darla a tutti Mister Vincenzo Torrente.